Il fondo è vicino alle donne perché? Perché tutti gli anni ci manda sempre la lettera a casa, se abitiamo a Biela nel Biellese, per ricordarci di fare gli screening gratuiti presso il fondo edotempia, screening del pop test ma soprattutto lo screening mammografico. Invito tutti a partecipare agli screening gratuiti presso il fondo edotempia per cercare di prendere in maniera preventiva l'eventuale insorgere di un cancro al seno. È importantissima la prevenzione, donne andate tutte al fondo, mi raccomando, è una cosa che sento di dirvi col cuore in mano e soprattutto troverete un'umanità che è difficile trovare altrove. Con il fondo mi sento in prima linea nella battaglia contro il cancro.